Quale, scusa? Quella di Star Wars, l'abbiamo già vista. Sì, lui me lo ricordo! Campanello, testimoni di Jehovah. Io. No, grazie, io venero la corte europea. Sì, mi decido. Ready, safe. Sta cercando di spiegare i pericoli dei giochi nei parchi pubblici. And that is your kid there. Concast from that. Come facile. That's exactly what I thought would happen. Your kids are going to get rope burn on this. Que co***o. It's not even connected. Your kids are going to somersault straight down this. Your kids are going to get stuck in there. Vabbè, ma lo fa apposta per prendere per il culo. How's that safe? Yeah, ok. That's enough. I've seen enough. I've seen enough of that. I've seen enough. Che imbecile. Vabbè, penso che sia per prendere per il culo l'iperprotettività delle madri moderne che rompono il cazzo per qualsiasi cosa. Voglio dire, quando fino a vent'anni fa, cioè, cascare di faccia e spaccarsi sei ossa era la base proprio dell'infanzia, voglio dire. Bravissimo, cazzo, bravissimo. Vai da grino. No, a parte che non mi ha neanche invitato, ma al di là di ciò non penso, mi chiami, quindi... Telomartus, cioè, cos'è? Fermo, 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 calma, perché qui partono sempre i video, non ho mai il tempo di leggere un cazzo. Gli islamici tedeschi sono il mio crossover fan preferito. Eh, mia madre! Naomi con il ciclo! Ha letteralmente Naomi con il ciclo questa qua. Vuoi che ti traduco cosa dice Naomi con il ciclo? Te lo traduco, guarda. Dovevi andare là a lavare i piatti, uso la lavastoviglie, ti prendo la testa, adesso te lo spacco sul tavolo, pezzo di testa, non hai lavato niente! Questa è la traduzione più o meno... Questa era più o meno la traduzione che mi... No, Naomi con il ciclo parla più o meno così, è molto simile a questa versione, più o meno... Non ho idea di quanti tavolini ha sfondati in casa, voglio dire, siamo clienti fissi da Ikea oramai, ne spacchiamo uno al mese, per cui... E ora qualcosa di completamente diverso. Cos'è l'intro di uno spettacolo dei Monty Python? Vieni qua, piccione! Dammi la briciola! Ma povera colomba l'ha presa... Bastardo! Dammi il cibo! Corrado, grazie per i sei, Mattino, grazie per i sei. Ma bambina, stupida bambina, è lui il tuo cibo, non il cibo del cibo. Il pane è il cibo del tuo cibo. Cioè, proprio, hai saltato un passaggio. Kings of the... What? Aspetta, con calma, perché ogni volta... Allora, piano. Gli arabi sono sempre... No, gli arabi fanno sempre cose abbastanza folli. Sì, ma non menate il computer! Non è che mi state menando! Propongo una standing ovation per il genio per quando disse Dio esiste. Andrea, smentiscimi. Quanti di voi vogliono una storytelling di quella sera? Ma guarda, oramai è epoca passata. Siamo su internet, le cose durano poche settimane e poi cambiano. Qui le cose vanno molto veloci. Dio padre a lavoro. Ma guarda che gli arabi sono molto sanguigni come persone. Gli arabi sono molto... C'hanno molto, come si dice, c'hanno molto la vina facile. Sei un deficiente! Che imbecille! E beh, poverino, dovrà pur mangiare anche l'aquila, poveretta, voglio dire. Le 400 sub... No, patatino, le 400 sub non sono arrivate, quindi io non sono a dieta. Quando arrivano mi metto a dieta. Però adesso non sono arrivate, quindi... Ah, questa l'abbiamo già vista. Ah, siamo poveri. Guarda che non l'ho mica proposto io, quella storia lì. Questa l'abbiamo già vista, ma è sempre bellissimo il suono che fa, che sembra un lavandino intasato che si sgorga. Sembra un predalien a casa. Noi uomini abbiamo davvero due neuroni. Nemo gorgone, ma sono d'accordo. Infatti ne abbiamo due di neuroni, perché? Bello, bello, mi è piaciuto. Dunque, con calma e pazienza. Non ho parole, invece è divertente. Il team di matematica americano che ha battuto il team cinese. Vabbè, in fin dei conti sono comunque americani. Se hanno una cittadinanza americana, sono americani, voglio dire. Saranno pure immigrati. Vabbè, ma sono stessi americani, io voglio dire. Se sono immigrati in America, sono americani. Poi, lascia perdere che, però... Lascia perdere che, però... Dov'è? L'importante è che siano americani. Poi dopo... Vabbè, oh, ma raga, poi americano quello vuol dire, eh. Americano vuol dire persona che vive in America, eh. Non è che, se... Anche perché... Ragazzi, cioè, lo sappiamo, cioè... Non esistono gli americani, ragazzi. Gli americani siamo noi, eh. Non è che esistono gli americani. Gli americani siamo noi che siamo andati là. Cioè, voglio dire... La squadra uok di matematica. Grazie. Dai, sei un coglione. Io sono cinese-americano, pezzo di melda. Che coglione. Che carino! Che carino, paffagalino. Quelli urla e lui, hi! Quella è tua madre e tua sorella che litigano di continuo e poi ci sei tu e tuo fratello che vi guardate. Ciao! Ciao! Poi o meno questo. Questo è il riassunto di quello che abbiamo appena visto. Critical hit. Che coso? Adesso fa filotto e stacca otto teste. Secondo me non si sono divertiti molto a quel compleanno, eh. Considerando sei feriti e quattro ricoverati in terapia intensiva. Tutto sommato, Nala. Come Nala. Ho scoperto che il mio gatto va giù dal... Scende... Come il mio gatto scende dal loft. Che cazzo dici? Beh, è una foca! Ma è una foca! Boim, 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 boim. Ma scusa, ma di panza! Ma scusa, ma di panza! Ma è bellissimo! Ma è una fgufa! È una fgufa che cade di panza! Ma è una fgufa! È bellissimo! Sei tu! Ovvio, ovvio. Ovvio. È ovvio che se potessi io scendere farei tutto con la panza, se potessi. Ovvio. Sono tutte sorprese bellissime, vedrai, 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 vedrai. Vedrai, 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 i boccelli! Maggia la madonna! Se vedrai, quanto vedrai, i boccelli! Eh, sì, sì, sì! Vabbè, era la d'urso, eh, non è che a mio aspetto complessi ragionamenti, voglio dire, eh, cioè... Quando il prof interroga il tizio che in classe è sempre distratto, ma stranamente prende sempre dei bevoti, Ah, quando ti fa l'orale, ok, ok. È finita, Rodrigo. Niente più trucchi. Niente più antichi manufatti. Niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto. Non è, non è, non è una cosa... Fabio, grazie Fabio per il ride! Non è, non è una cosa così, non è una cosa così banale, ragazzi, eh. Non è così banale. Perché, ah, perché a me è successo, eh. A me, a me ha le superiori è successo, ragazzi, ve lo dico, eh. Mi è capitato che il prof mi guardasse e mi dicesse se è andato particolarmente bene a questo scritto. E lui mi guarda e mi fa, dovrei interrogarti per vedere se hai copiato o no. E io stavo sudando come la merda perché io avevo copiato. Ma di brutto, cioè, nel senso... Non è, non avevo copiato poco, avevo copiato tanto. Fortunatamente, la sua minaccia non è andata a buon fine, non mi ha interrogato perché aveva lezione. Però, ammetto che in quel momento, nonostante esternamente stessi mantenendo una certa dose di sangue freddo, mi stavo abbondantemente cagando addosso. Ma comunque, fortunatamente, anche quella volta lì l'ho scampata. No, cioè, le spade laser purtroppo non si possono fare, però si possono fare le spade al plasma. If lightsabers are physically possible, and the answer is a little bit complicated. In theory, they are possible, but in order for them to exist, we need to tame the fourth state of matter. Eh, il plasma. Sì, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Cioè, la spada laser è una spada laser, e la spada laser fisicamente non si può fare, purtroppo. La spada al plasma non sarebbe una spada laser, quindi voglio dire... Quelli che vedete esultare non sono dei tifosi della Roma, ma il team di scienziati e operatori NASA in estasi per l'arrivo su Marte, pochi giorni fa, dell'Ender Insight. I am so excited! Chi invece non si sarà eccitato nemmeno un po' sono i nostri amici terrapiattisti. Sicuramente loro avranno assistito rabbiosi e indignati dinnanzi all'ennesima frode della NASA e delle sue fantomatiche sonde. Ne vediamo un pezzo, perché tanto è terrapiattisti, ne abbiamo già parlato mille volte, mi fanno cascare i coglioni ogni volta. Ma quali sonde? Ma quali sonde? Eh già! Ma quali sonde? Ma quali sonde? Dai! Ma come fai a non capire che la Terra è piatta con un muro di ghiaccio alto 16.000 km e il Sole è un'invenzione dei poteri forti? Ma quali sonde? Dai! Sonde non esistono. Marte non esiste. È solo una grandissima presa. L'universo non esiste. La Terra non esiste. La Luna non esisti. Tu non esiste. La tua sapsi. Ma tu non esisti. Nessuno esiste. Per il culo nei confronti di tutto il mondo, da parte dei poteri forti. Chi vuole praticamente smontare la Terra Piana, a fine, ci sbatte il grugno e capisce che è del piano veramente. E ricordiamolo. La Terra Piana, io pensavo sia piatta, adesso è piana. I terrapiattisti, oltre ad essere convinti che la Terra sia piatta e che tutte le foto dallo spazio, da sempre, siano solo dei falsi disegnati al computer, sono anche convinti che l'Australia non esiste. Ovvio. Ragazzi, è la base. Tutti lo sanno che l'Australia non esiste. Cioè, basterebbe prendere l'aereo e andarci, eh. Però l'Australia, ragazzi, l'Australia non esiste. Ma come non esiste il Molise? Non esiste la Finlandia? Perché sì, non so se lo sapete, ma c'è anche un complotto che dice che non esiste la Finlandia. Non so perché. Non mi chiedete perché non dovrebbe esistere la Finlandia. A sto punto mi viene da chiedere Stalin chi cazzo ha invaso. Cioè, mi viene da chiedere. Prima della Seconda Guerra Mondiale, Stalin, chi cazzo ha invaso, scusate? Cioè, vi immaginate Stalin che manda le truppe? Ma, compagno comandante, siamo arrivati, ma non c'era niente. Ma la Finlandia? Eh, non c'è. Non c'è. C'era il mare, c'era il mare. No, non c'è. Non ti trago più con la misura. Così come i dinosauri, che in realtà non si sono istinti per il semplice fatto che non sono mai esistiti. E la Terra, oltre ad essere piatta, è circondata da un'altissima barriera di ghiaccio. Allora, 400 chilomeni d'altezza. Sì, mille... Mille, mille, milla... 400 chilometri, ma che cazzo! Aspetta, ma se la Finlandia non esiste, io che a gennaio sono stato in Lapponia. Dove sono andato? Era tutto un complotto dei poteri forti, non ti sei rimosso la casa tua, ti hanno messo un buare in testa e ti hanno convinto che hai viaggiato. 400 chilometri! Siamo nello spazio! Ciao grande re Papera, conosci il trono del muori se si farai mai reaction ai suoi video? Le ho già fatti in passato, Baratino, grazie mille per i 205. Presidiata da migliaia e migliaia di guerrieri da più di 2000 anni. Certo, ovvio, non fa assolutamente una piega. Invece il Vaticano e il Duomo di Milano... Sì, in realtà è stata costruita per giganti da giganti. Ma Albino è suonato anche lui, e mi ricordo ancora la live di Grimble che ho fatto con Albino, cioè anche Albino è suonato. Andrea è semplice. Se Babbo Natale non esiste allora nemmeno la Lapponia dove lui vive esiste. Ah, ma non viveva il Polo Nord Babbo Natale, scusami. Cosa mi sono perso? Babbo Natale non viveva il Polo Nord. Grazie per i ciro. Stati costruiti dai giganti per i giganti. Eh già! E attenzione! Tutti quanti noi viviamo imprigionati in un Matrix. Eh ma sì, ma cos'è tutto? Domanda Random. Hai mai finito i Crash Bandicoot per PS1? Patatino. Sì, Patatino, grazie per i ciro. Quindi aspetta, vediamo un attimo se ho capito, aspetta eh. Viviamo in un Matrix creato da qualche sorta di alieno o robot che ci sta facendo vivere in una realtà simulata e nella realtà simulata gli scienziati simulati ci stanno mentendo sul fatto che la Terra non è sferica ma è piatta e che i grandi edifici sono stati costruiti da giganti per giganti e che intorno alla Terra c'è un anello di ghiaccio di 400 chilometri presediato da guerrieri che sono lì da 2000 anni. Sì, ha perfettamente senso, ha perfettamente senso, non vedo come possa essere sbagliato. Siamo tutti controllati, tutti gestiti, manipolati. Gli aerei... Tutti controllati, tutti gestiti. Resetti in corso, avvio, streamer, Bill Gates, inserire pagamento. Siamo tutti quanti controllati, tutti quanti... Fatevi i vaccini, vaccinatevi bambini, prendete il vaccino, Bill Gates vi vuole tanto bene. Siamo tutti quanti controllati. Il villaggio di Babbo Natale si trova in Lapponia, esattamente sul circolo polare artico che lo attraversa, quindi si tecnicamente è al polo nord. Vabbè, sì, io pensavo più al centro del polo nord. La situazione sta degenerando. La situazione è già degenerata. Poi passano da una parte all'altra dei cieli grazie a quello che alcuni terrapiattisti definiscono l'effetto Pac-Man. E gli astronauti sono tutti degli attori... Ma in realtà l'effetto Pac-Man, con i terrapiattisti che ci ho discusso io, no, loro non credono all'effetto Pac-Man. Loro sostengono che, e questa cosa per me è una chicca meravigliosa, non che le cose arrivano da una parte e rientrano nell'altra, ma che siccome la terra è piatta, praticamente tutte le navi e tutti gli aerei non vanno dritti, ma vanno permanentemente in curva. Ti fanno credere che stiano andando dritto, ma in realtà no. Sono permanentemente in curva, in questo modo a te sembra di andare dritto. Assolutamente. Pagati dai governi. E quindi anche la nostra nuova Iena. Sono un Iena in prestito, diciamo così. E che cosa fai? Sono un astronauta. Eh già, lui è Umberto Guidoni, astronauta e orgoglio italiano. Il primo ciocciaro nello spazio. Umberto, infatti, ha partecipato alla missione a bordo della navetta Columbia. E poi su quella dell'Handover, quando insieme ad altri colleghi ha contribuito ad assemblare la prima stazione spaziale internazionale. È un po' la casa dell'umanità nello spazio. Un motel. Un motel. Ma tu sognavi di fare l'astronauta fin da bambino? Sì, io appartengo a quella generazione che ha assistito allo sbarco sulla Luna quando erano... Ah, attenzione, perché qui tocchiamo un capitolo di ricardo. Lo so. Eh già, perché i nostri amici terrapiattisti sono estremamente convinti che l'allunaggio sia solo l'ennesima grande bufa. Quelle odio, naturalmente. Ma che tipi di cose insieme. Forse può uscirci un film stile anni Ottanta, dove poi il protagonista si uccide AA e si scopre che il co-protagonista è un robot cyborg. Oh, ma spero, perché qui la situazione sta andando sempre di più. Ma perché voi, grazie a decimparatino, ma perché voi? Io non so se voi c'eravate quando io ho fatto la live da Grimbaud con Albino. Io non so se voi c'eravate, perché Albino ha approfondito la sua teoria. Cioè, la teoria d'Albino sostiene che i romani fossero dei giganti che sono nati perché degli angeli hanno ingravidato i primi umani e questi primi umani erano romani che erano giganti. No, lo dico solo per chi non ci fosse. Lo dico per chi non avesse assistito a quella live, perché è un po' vecchiotta. Però la sua teoria è questa, la sua teoria è questa, che degli angeli alieni sono venuti sulla terra a ingravidare le donne che hanno parturito i romani che erano angeli alieni mezzi umani giganti. No, ma io non lo dico perché voglio dire... Quando è l'ultima volta che sei stato nello spazio? Sono stato nel 2001. E com'è la terra vista da lassù? È uno spettacolo indimenticabile, è bellissima. È rotonda? Non c'è dubbio che sia rotonda. Ma sei sicuro? Assolutamente sì, una grande palla a giù. Però abbiamo scoperto che ci sono delle persone... Sì, sì, ne ho sentito parlare, i famosi terrapiattisti. E il movimento ha reagito con grande sdegno dopo il nostro servizio. Sono centinaia i post e i video ricolmi di rabbia e odio verso i poteri forti e la massoneria di cui anche noi faremmo parte. Come sostiene anche questo youtuber, adetto terrapiattista, con un corvo di plastica incastonato nella sedia. Tecniche di manipolazione mentale di massa e di come agiscono questi media e non lo specifico le iene. Assolutamente. E allora, per mettere la parola... È bellissima, è bellissima questa tesi antistorica, antiscientifica, dove tutte le prove, tutte le evidenze vengono negate e tutti, chiunque, non sia d'accordo con loro è ovviamente pagato dai poteri potentissimi. Fine ad ogni polemica... Perché sono vestito da iene allora? Ecco, adesso ci arriviamo. Perché qualche giorno prima ho richiamato i nostri amici terrapiattisti proponendogli di incontrarsi di nuovo con me davanti alle telecamere per fare un po' di ordine su tutto quanto. Malbino, riusciamo a organizzare un incontro? La piattista, l'acqua che scende dallo sciacquone, è una invenzione dei poteri forti, ma un gruppo di potenti che costruiscono un presepe in cui noi viviamo è ovvio. Wow, vorrei conoscere lo spacciatore di Albino, perché quello che prende deve essere di ottima qualità. Ma Albino è suonato, zio. Con Roberto a Roma, così facciamo chiarezza una volta per tutte? Ce la facciamo? Prima Albino e poi Roberto, di buon grado, hanno accettato l'invito. In realtà, però, si tratta di un trappolone ben architettato. Perché il nostro incontro non avverrà in uno studio televisivo, ma in uno... Nello spazio! ...palestra alla periferia di Roma, sopra ad un ring che diventerà teatro del più epico degli incontri. All'ultimo complotto. All'ultimo complotto. E soprattutto, ad affrontarli sul ring, a loro insaputa, come avrete capito, non sarò io, ma Umberto, il razzo ciociaro intergalattico. Andiamo? Andiamo. No ma ragazzi, ma loro si divertono così? Cioè, loro vogliono credere a qualcosa, loro vogliono sentirsi innovativi, vogliono sentirsi intelligenti. Sono quelli che si definiscono persone che vogliono fare gli scienziati pur non capendo un cazzo. È così, ragazzi. Tanto, anche se tu li prendessi e li mandassi nello spazio e li facessi vedere la Terra, non ci crederebbero, ragazzi. Non ci crederebbero. Sono mentalmente tarati. È inutile. È proprio tempo sprecato. Non ci crederebbero. C'è il terrapiattista che ha confermato che la Terra è sferica con un esperimento. Comunque non ci ha creduto. Per cui i ragazzi sono mentalmente tarati. Non c'è nulla da fare. Insomma, dopo Rocky contro Drago, Floyd e Khabib contro McGregor, sarà Umberto contro Alvino e Roberto. Un Frissam senza precedenti. E finalmente giunge il giorno. Pronto? Albino? Siamo qua, sono in stazione. Ok, aspettate lì che sta arrivando a prendervi l'autista. Un autista privato arriverà alla stazione Termini per prelevare gli inconsapevoli terrapiattisti e portarli nel luogo dell'incontro. E indovinate un po' chi c'è al volante. È lui! Eh già, l'astronauta Umberto, in incognito, con cappellino e occhiali da sole, nei panni di Mario, l'autista, si dirige... Adelino non gliela si fa. PS non credete che a 400 sub Andrea si mette a dieta. È un terrapallista. Razzurri e Cervanti, no 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 no, le promesse si mantengono sempre. Adrenalinico verso la stazione. In questo modo, prelevati due lungo il tragitto, avrà la possibilità di conoscere e studiare i suoi avversari senza destare sospetti. Vabbè, ma tanto non mi sono venuto. Ed eccoli lì, gli adepti. E oh, oh, guardate che cosa hanno in mano. Chissà, forse quelle sono le loro mappe segrete arrotolate. L'appoggi qua, la metto davanti. Forza Umberto, ehm, Mario, dai, dai! Aia! Adesso speriamo che i due non lo riconoscano. Salve. Salve, salve. Buongiorno, come ti chiami tu, autista? Io. Di nome, sì. Mario. Mario. Come ti chiami tu, autista di nome? Come ti chiami tu, autista di nome? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Bene, e dopo le dovute presentazioni, secondo voi, complottisti, di che cosa diavolo mai parleranno? Mi hai sentito parlare dalla forma della terra piatta. Ah, sì, sì, sì. Mi hai sentito parlare. Roberto. Sono carati come le persone che ancora mettono la mascherina in macchina da soli e in metro piena di gente che non si restituono. Sì, anche, grazie. Dopo 38 secondi di viaggio, ancora inconsapevole di trovarsi a bordo con una... La terra c'è. Prendi un modellino rotondo, possibilmente. Glielo sbatti in faccia a uno di sti qua e voilà. La cronauta inizia ad ammorbarlo con le sue teorie adornate. Questi sono i miei ultimi cir per non so quanto ci tenevo a ringraziarti per la compagnia che mi fai ogni sera faccina con occhi sorviventi. Grazie mille, palatino, grazie mille per i cirti. Fate dalle sue celebri metafore. L'hai mai vista una palla a 1700 km girare con l'acqua attorno? L'hai mai vista una palla a 1700 km girare con l'acqua attorno? E' una descrizione perfetta della terra, perfetta. E' una palla che tira. Ma noi siamo fatti di atomi. Ma di atomi. Secondo te noi siamo fatti di sfere di energia che si collegano. Ma che cazzo dici? Sì, certo, siamo fatti di atomi. Com'è che io non li tocco, eh? Com'è che non vedo gli atomi che sbattono, eh? Quindi noi siamo fatti di materia. Ma che cazzo dici? Ferisce alla palla di Oli e Benji, ma proprio al nostro pianeta. Che infatti, nonostante lo scetticismo di Roberto, ruota sul suo asse a 1700 km orari. E quindi voi parlate di... Che c'è la pianta? Eh, tu stai trasportando due dei maggiori terapiatisti italiani. Guarda, io non me ne vanterei, Albino. Non è una cosa di cui mi vanterei. Barba, grazie per i venti. Barba, grazie per i salmi. E già i due pesi massimi del grande complotto. E Albino rincara subito la dose nei confronti degli altri corpi celesti. Cioè, non esiste Andromeda, non esiste niente. C'è 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 niente. Umberto inizia ad avere i primi sussulti. Queste per lui sono come delle bestemmie. Oh, gli hanno appena detto che... Non esiste Andromeda, ragazzi. Non esiste, Ollega. Non esiste niente. Vaffaculo. Non c'è nulla. Di tutto quello che avete visto è una pura troia. Non c'è nulla, ragazzi. Non c'è niente. Lasciate per... Mio Dio, dove c'è niente. Mio Dio, dove cazzo stiamo finendo? Che io non ci posso, già io... Non so neanche più come commentare. Sì, l'avevo visto il flounder della sirenetta. Bellissimo. Complimenti. Sembra un pesce appena uscito dal nocciolo di Cernobil. Bellissimo. Sembra un pesce dopo che lo prendi a calci per una settimana. Stupendo. Complimenti anche ai produttori di questa meraviglia horrifica visiva. La vecchia squadra è tornata. La vecchia squadra, dai, cazzo. Eh, l'Italia... Eh, sabbi pazienza. Il dieghetto, grazie per gli 11 mattino. Grazie per i sapi. I am a Starseed. Gli umani Starseed credono che sono alieni mandati sulla Terra per salvare il pianeta. Ma la smettete di dire stronzate? Ma vi volete drogare come tutti gli adolescenti normali? Ma basta! Ma cos'è sto tripudio di stronzate? Che stanno uscendo in questi ultimi anni? Ma cos'è sta roba? Ma perché? Cioè, ma anche sta stronzata? Non bastavano sti cazzo di bambini indaco di merda di cui mi parlavano quando ero ragazzo io? Cioè, adesso sta stronzata qui? Ma basta! Ma fatevi i cannoni come tutti gli adolescenti normali? Ma che cazzo? Ma veramente? Ma non c'è uno che è normale, porca puttana, eh? Quando scopri perché i dinosauri si sono estinti? Effettivamente possiamo dire che quello che rimane dei dinosauri All'America piace molto, in effetti Non possiamo negare che l'America prezzi particolarmente, effettivamente, il prodotto dei dinosauri Però Non ho capito cosa c'entra all'America Il petrolio Il petrolio patatino è il prodotto della decomposizione anaerobica Tra l'altro, tra l'altro, dei organismi, tra cui i dinosauri Tra cui il dinosauri Il petrolio viene dalla composizione anaerobica senza ossigeno Dei forme di vita, tra cui i dinosauri Spremuta, esatto, più o meno spremuta dei dinosauri Che conosce, quindi Diciamo che è per quello che all'America piace molto Il mio pollo Il mio pollo è sempre pronto Ah, micchia Micchia Cazzo, veloce, però Complimenti, devo dire Interessante, notevole Averci le galline così efficienti, borgatronia Dammi un uovo, ding Micchia Rapidissimo, cazzo Mi piacerebbe avere anche a me una gallina così efficiente È una Karen in Pakistan Non sto capendo È decisamente una Karen in Pakistan D'altro canto, ce le hanno anche loro in Pakistan Non è che le Karen sono solamente americane Per cui voglio dire La paura negli occhi del padre Quando Quando si è girata la telecamera Credo che quella con la telecamera in mano fosse la moglie Che non ha approvato il fatto che il padre abbia detto al figlio Schiaffeggia quel culo Però, vabbè, signorina, abbia pazienza I bambini bisogna pure istruirli, eh Signora, abbia pazienza Bisogna pure istruirli i bambini Cioè, lei vuole avere un figlio che non schiaffeggia il culo della fidanzata Signora È proprio la base Schiaffeggiare il culo della fidanzata è la base, signora Bisogna che fin da bambino impari come funzionano le cose Berto, grazie per il 19 Paratino, grazie per i sub Ma le basi Ma anche non della fidanzata Anche disconosciute Eh, così che papà ha rimorchiato la mamma Allora, dicevamo Ma che carino A che livello si evolve? Beh, bello, no? Il Louvre Sì È quello che mi è successo a me al Louvre Però è successo a me E la persona che mi ha dato lo schiaffo sul culo Era un ragazzo Però, vabbè Insomma, voglio dire Perché stare a... Perché stare... Alla fine ho apprezzato comunque il gesto È stato comunque... Mi ha fatto sentire apprezzato No come scusa Ma non ve l'avevo già raccontato Che ero in gita a Parigi Al museo Ero a Louvre In gita a Parigi Stavo camminando insieme ad altri Blah blah Per un corridoio dove c'erano i quadri E mi passa di fianco un ragazzo Che era anche un bel ragazzo E passa di fianco E con la mano Sbammi da una sberla sul culo E io mi son girato Gli ho sorriso E volevo dirgli Buon gusteio L'altro canto Vabbè L'altro canto Comunque quando avevo 16 anni Ero un bel ragazzo Voglio dire Ci sta, ci sta Per cui Ho apprezzato il gesto Alla fine sono queste le cose Che ti fanno Sono queste le piccole cose Che ti fanno sentire apprezzato Anche dagli strani Quindi voglio dire Non so Ma mi ha fatto ridere un sacco Quella cosa lì Non so perché Non... Ma mi ha fatto ridere un sacco Quella cosa lì Non mi dà del motivo Ma mi ricordo Che mi ha fatto ridere un sacco Ma io non ho capito Perché piace un sacco Agli omosessuali Non ho ben capito il motivo Io agli omosessuali Piace un sacco Non so perché Non ho avuto più di uno Che mi ha lasciato il numero Su un bigliettino Un cameriere ci ha voluto provare Un cassiere mi ha lasciato Il suo numero sullo scontrino Non ho capito perché Non ho capito perché Piace un cazzo Piace un cazzo Piace un sacco Agli omosessuali Vabbè Infatti io ho detto È un peccato Che non sia nato gay Perché se nascevo gay Avrei trombato veramente un sacco Se nascevo gay Avrei trombato la mattina sera Quindi Oh Ma che cazzo Ma dai ma poverino Ma dai ma poverino Il cane sta impazzendo Sì ma perché Guarda che il cane lecca anche lui Quando lecca lei Ah il fischio Adesso Per l'altra ce ne sono 16 mila L'ho sputato Sono omosessuale E sei figo Oh che carino Patatino Ti mando un bacio Fast funny video Questa perché La polizia inglese È la migliore Ma è salito Su un'auto Della polizia E loro che sono partiti Vabbè ci sta Ci sta Se trovi i poliziotti Pirla Ci sta Ci sta Ti diverti anche con loro Zio oh mio dio Che cazzo è Cioè non farlo mai più Sembra che è inchiodato Con l'auto E investito una famiglia Di procioni Cioè mio dio Non farlo mai più Ti prego Che cazzo Tutti abbiamo una compagna così Alla buon'ora Scusi il ritardo Tanto ormai Oggi ovviamente Ho dovuto darmi un passaggio A mio padre E come tutti gli uomini Visto che siete degli scansa fatiche Si è svegliati in ritardo Oggi parliamo di Io no Io non ce l'ho avuta Non esistevano ai miei tempi Quindi non ce l'ho avuta Mi spiace Feminismo Io sono femminista Spieghi il significato alla classe Allora Vuol dire parità dei sessi Quindi uguaglianza Beh prof adesso Uguaglianza è proprio un parolone Nel senso Se vogliamo fare i buonisti Ok Però si sa che comunque le donne Hanno una marcia in più Rispetto a lui La fa benissimo La fa benissimo Cazzo La fa benissimo Ovvio Dio Per fortuna Che non mi sono mai trovato Con una compagna così Solo quanto mi sarei divertito Quanto mi sarei divertito Ma qua Dì un'altra volta Ai miei tempi E giuro che ti dono zero sub Ma non è colpa mia E che ai miei tempi Non c'erano tutti questi E come cazzo devo dire Quando era adolescente io Non c'erano Tutti questi estremisti Cioè Non c'era nessuno Le femministe non c'erano I vegani molesti Non c'erano I complottisti Erano molto pochi Cioè Non c'erano Cioè Guardate che Io mi sono perso Un sacco di divertimento Io mi sono perso Un sacco di divertimento Avete idea di quanto Sarebbe stato divertente Per me Molestare le femministe Ma mi sarei Cioè ragazzi Mi sarei divertito Come un matto Cioè E invece adesso Non ce ne sono Cioè Dave Grazie per aver chiamato Una sapatino Cioè all'epoca Non ce n'erano Voglio dire Se lei in classe Mi avesse detto Le donne in una marcia in più Io avrei risposto Guidate col cambio automatico Perché Andiamo avanti Andiamo avanti Sei alta Mi prendi il libro Dall'armadio Non ci arrivo Io Cioè abbiamo la classe Che è piena di maschi E chiedi a me Marco alzati Fa gentiluomo Ma sono sulla sedia a rotelle Ieri ho chiesto a Luca Se voleva uscire con me Ragazzi Ma che c'è Che stiamo facendo Le donne devono farsi desiderare I maschi devono rincorrere Funziona così Ragazzi Dove state vivi Ragazzi in sta classe C'è puzza Lavatevi Vabbè prof Saranno i maschi Cioè non si lavano Si sa che a noi Gli piace curarsi Sono delle scimmie Vabbè in realtà Su questo non ho poi molto Non ho nulla da dire In realtà Effettivamente questa frase È vero Cioè non Su questa non è che possiamo Contestare più di tanto Ha ragione la ragazza Gli uomini sono delle scimmie E si lavano poco E la puzza che si fa Da adolescenti È una puzza ineguagliabile Quindi Su questo in realtà L'appuntamento Gli offro io la cena Non ho sentito Scusa ripeti No dicevo Che prima Ivan hai preso tre Cioè puzzi Sei pure ignorante Zitta lavatrice Ma sei zitto Portafoglio con le gambe Oh uno Portafoglio con le gambe Bellissimo Se fossi donna La userei sempre Questa cosa Se fossi donna Lo direi sempre Portafoglio con le gambe Deve istruire Naomi Perché lei le usa poco Queste frasi Deve istruire Naomi Che succede? Ok Merda che pizza Merda che smerla Merda che pizza Che gli ha tirato Che cazzo Merda che smerla Hai visto che Il cane della vicina È incinta Ma la faccia del cane Sai quello che succederà Vero Puoi dire Ciao ciao Alle tue bellissime Palline E il cane Ha questa espressione Perché Sa già Sa già Che a breve Perderà Lo scroto Le palle E tutto quello Che ci ha attaccato Però voglio dire D'altro canto È un cane Consapevole Del suo destino Dove cazzo Stai andando Dove cazzo Stai andando In ciabatte Nella palude Pontina Ma dove merda Sei Ma perché Ma perché cazzo Ci vai Vi giuro Vi giuro Non me l'aspettavo E lo giuro Che non me l'aspettavo 16 metri Di profondità In una pozza In una pozza No io no Io non mi immaginavo Che una pozza Anche era Fosse profonda 16 chilometri Non me lo sarei aspettato Mai Dai Li viene un infarto Ma dai Ma ti viene un infarto A fare così È perplesso Cazzo Se sono brutto Appena sveglio È perplesso Madonna Chi è sto mostro Madonna mia Cazzo Se sono brutto Che è un po' in realtà La cosa che facciamo Tutti la mattina Anche io appena sveglio Come mi vedo allo specchio Dico Cristo Dio Che cazzo è Anche a me viene da fare così Perché effettivamente La faccia di mattina È una cosa inguardabile Le righe del cuscino qua Che t'hanno creato Dei solchi Gli occhi Semiciusi Con 1600 caccole All'interno Gli occhiaie Che sembri un panda Pallido Un cadavere Ti sembra di essere uscito Da The Ring Thomas grazie per i dieci Palladino Grazie per il risato Ecco Lui si è messo in fartua Ok No Per adesso niente Lui si è spaventato Poco ma si è spaventato Come scusate Cosa ho detto Che lingua ho parlato User Grazie per i sedici Grazie per i sap Palladino Vent'anni per armate Un principio Di embolia mattutina Ehi babe Mica tanto Questo l'abbiamo già visto Quella tua mamma ti chiama Ja 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 Questa l'abbiamo già visto Anche commentato Scena classica Vissuta almeno una volta Nelle case Di tutte le persone Normali Kik Grazie per i 17 Grazie mille Per il risato Kik Classico perché le madri Ti chiamano Ma poi sono sorde Quindi ovviamente Non c'è pericolo Che sentano la tua risposta Quando la tua migliore amica È un assistente dentista Dai che molesta Stai ferma Io ti avevo già pinzonato la lingua Come una siringa Con dell'anestetico Che molesta Ferma con sta cazzo di lingua Che molesta Vabbè però ci sta Prova pieno Anch'io se avessi il mio amico Che fa il dentista Non molesterei tipo tantissimo Sette Cos'è sette? Bravissimo Coglione di merda Non credo che lui tornerà a breve A fare paracanutismo Fuma Grazie per l'anno Maratino Con quale verso Con quale verso Scusami Da facoccero È cascato Merda che noce Merda che trambata Per terra Questo l'avevano visto Bellissimo Eh se spegni l'aria Eh ma spegni l'aria però Non lo so Non lo so Penso a The Dylant Credo Non lo so 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 Vabbè se ne va Lui se ne va Arriverà con calma A fondo valle Tranquillamente Non avrà molte memorie Però con calma e pazienza Arriverà poi in fondo Senza troppi problemi Eh io vorrei Quello che ha preso Questo bambino È possibile È possibile avere Una dose di quello Che ha preso Questo bambino Perché sembra Veramente divertito Sembra veramente Molto molto divertito Questo bambino E vorrei avere Anzi per essere Per essere sinceri Se potessi Vorrei avere Quello che hanno dato A mia nonna Quando l'hanno operato Alle anche Che secondo me Gli hanno dato la morfina Secondo me A mia nonna Quella volta Gli hanno dato la morfina Perché è impossibile Cioè L'avevano operata Alle anche Dopo ore d'operazione In teoria Quell'operazione Ti lascia un dolore incredibile Io chiamo mia nonna Per sentire come sta La chiamo E gli faccio Pronto nonna Nonna E lei Ah ah Andrea ciao Ah ah Io gli dicevo Nonna scusa Ma che cazzo stai Cazzo ridi Nonna E lei Ah ah E io Nonna Ti è andato la morfina Ti è andato la morfina Nonna E lei Non ho Ah ah Dico eh Non ho la minchia Ah 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 Eh Ti han drogato Eh vecchia Toscica di merda E hai provato a giocare A Garden of Ban Ban È uscito anche Il terzo capitolo Non lo conosco Peccat 9 Che per Poppy Playtime Ci stanno mettendo molto Non lo conosco Si guarderò Un palatino Grazie per i circo Dizzy Ma come la mamma Ma come la mamma è nera Ma come la mamma è nera Scusami Rachel Grazie per gli otto Malatino Merda È fattissimo a merda Gli han dato della roba Veramente tanto interessante Perché Oh che troia Quando arriva Quello religioso A dire che non devo bestendere Madonna 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 Va via Fuori dai coglioni Questa Questa è Un altro soggetto Incredibilmente Epico E luminoso Nel nostro firmamento Di persone Piene di casi umani È una persona Non è una statua Cioè non è un pupazzo Adesso si muove Gli fai un infarto Signora E che cazzo Si è spaventata più lei Che la bambina Poverca troia Cioè quella bambina Dovrà dare la lista Per i prossimi 16 anni Con l'urlo che ha tirato Che cazzo Cioè Possiamo tutti cantarla A mente Più o meno Sento il testo Lo sento nella mia testa Lo sento nella mia testa È come se È come se sentissi una voce Che mi dice Il testo di questa canzone È questo O voi immaginate Quando ha fatto il Can Can Se si Se Cioè Immaginate Quel Non mi ricordo neanche Chi canto l'ha fatto Poi il Can Can Però lui che l'ha fatta Adesso c'ho vuoto su chi è Se si immaginasse Che un giorno Se si fosse immaginato Che un giorno Avrebbe avuto alcun testo Quella canzone Ma Offenbach Bravo Ecco Grazie Scusami Hai ragione Offenbach Non mi veniva Questi sono i tuoi amici Alcolizzati Appena usciti dal bar Che vogliono venire in casa tua Ha 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 Chi non vorrebbe avere queste due persone Come amici Chi voglio dire Cioè sono gli amici perfetti Che vengono sull'arte di sera Obbriachi Con uno che balla Chi è che co Allora Un momento Con calma Comanda L'uomo o la donna L'uomo Ovviamente Il maschio Donna si chiama Pulisce il lava Il maschio non si chiama La faremmo mettere La farella La farella Compà Io non ho capito niente Italiano La farella Da una donna Non è veramente Io sono uomo Tu donna Tu ciucciare pisello Io cacciare cibo Tu stare in casa Io procacciare nutrimento Tornare Io gravidare te Porca troia Sembra di vedere Un documentario Sulla caccia E la vita Degli uomini Di Neandertal Cristo La mente ancora così Cioè io Non lo sbaglio Sanco È come il sile Motanne Affimla Non è finito Posso dire una cosa Però posso dire una cosa Torno da lavoro Stanco E chi mi stira Le mutande Posso dire una cosa Gli uomini Non si devono mettere Le mutande stirate Cioè Scusami eh Ma quando mai Gli uomini indossano Mutande stirate Eh direttanto Gli uomini indossano Vestiti stirati Figurati le mutande Ma dai Cioè ma da quando Gli uomini indossano Mutande stirate Ma da quando Gli uomini indossano Mutande in generale L'uomo deve andare In giro Col cazzo di fuori Perché è così Che funziona Ma figurati Voglio dire Ma infatti Ma chi cazzo L'hai mai vista C'è una ragazza Che ci prova Con lei Ma a lei Non piace Lei come la posteggia Che cos'è E' un'amicizia L'uomo deve andare E' un'amicizia E' un'amica Diretto Bisogna un scherzo Gio Può esistere Amicizia Tra un uomo e una donna Ma è vero Alza bandiera Quando c'è una ragazza Brutta Faccio una vascia Un'amica Un'amica Quello cazzo Direttissimo Al testosterone A 4 miliardi C'è Può esistere L'amicizia Tra un uomo e donna A me viene il cazzo duro Non importa Se sei magra Grazia Bella brutta C'è proprio Della serie Basta che respiri Proprio Non ce ne frega Un cazzo Può anche essere Finta Può anche essere Una bambola Confiabile Il tubo Di scappamento Di un Audi Il chiavistello Di una porta Ce ne frega Un cazzo L'importante È che ci sia Un buco No perché Il cavallo Ha un buco Si scopa pure Quello Vaffaculo Guarda C'è Dipende In realtà Non c'è Che c'è Una risposta Perché Il cacciatore Ci piacciono i film Adesso Cacciatore Adesso Cioè Sì D'accordo Poi Oramai Cioè nel senso Oramai Sì L'istinto Ce l'abbiamo Però Io il massimo Che caccio Sono i viteltonne Al reparto Surgelati Della Conad Cioè nel senso Io oramai Il massimo Che caccio Sono i limoni Bio All'ortofrutta Dalla cop Francesco Grazie per i nove Grazie per i sub C'è Caccio giusto Nei video Giochi Perché Lei Io caccio cibo Tu cucinare Nonna Cucinare Io ti metto Novanta Io scopo Te Poi io dormo Perché Io sborro Tu no Lei per me Rappresenta Il prototipo Del palermitano Che è Intelligente Raffinato Ma sa calarsi Nell'arte Folcloristica Di apparire Zio Si è già perso No Guarda Si è già perso Da sei ore Si è già perso Lei è Te lo dico Lascio perdere Trasce per divertire La gente Me lo conferma Allora C'era uno psicologo Di nome Alfred Binet La sua teoria Era che in ognuno Di noi Coesissino diverse Personalità Che emergono in situazioni Circostanze diverse Se tu mi becchi In un ambiente In cui diciamo Viesi trolla lo mia La palermo bene Cerco di fare La persona raffinata Ma se è sognata Venna azzurra A cavo Uscirò Nessamente Gio Io lasciata Vengo E foro Niente Ogni tanto Filosofeggia Ogni tanto Esce lo psicologo Ogni tanto Esce il gorilla Ci sta Ci sta Voglio dire Ognuno ha questo Ognuno ha questo Dualismo Nella vita È una supercazza Potrebbe anche essere Potrebbe anche essere O potrebbe essere Di no Voglio dire Non ti credere Che persone acculturate Implica per forza Persone raffinate La raffinatezza La cultura Non sono due cose Che vanno necessariamente Di pari passo Io te lo dico Non è così ovvio Che imbecile Ha una pistola Che imbecile Questo è come Mia figlia Mi aiuta Nel giardino Oggi Vabbè A modo suo Dai Vabbè A modo suo Dai Occhi croce Voglio dire Più o meno Dai Sta facendo Quello che può Adesso Non è che possiamo Pretendere E vabbè Fa quello che può Signora A modo suo A modo suo Sta cercando Di concimare Di rigirare Un po' la terra Adesso Stiamo Voglio dire A rompere i coglioni Alla bambina Su dai Questo l'avevano già visto Questo l'avevano già visto Sempre bellissimo Andre Questo è tutto Per te Ho molta paura Di sapere Che cosa Mi sta Guarda Ti ringrazio Sei gentilissimo Apprezzo La tua Offerta Guarda Ammiro Il fatto Che volevi Propinarmi Una squisita Signorina Però Dal mio punto Di vista Voglio dire Quando si è letto Io penso Che il numero Di palle Debbano restare Due Non quattro Guarda Sei gentilissimo Però Io Andrei oltre Grazie mille Andrea Mi saluti Giussi Che è una tua iscritta Giussi Ti mando un saluto Paratina Grazie Sto bene così Grazie Il balletto È delizioso Ma sono a posto così Gentilissimo Grazie mille Fatti un altro Esatto Vabbè però Che voi voglio dire Siete un po' stronzi Cioè Su un tavolino di legno Mettete due bisonti Da un lato Non è difficile Immaginare che poi Tutto il tavolo Si cappotti Si ribatti Voglio dire Che cazzo Cioè per Dio Non è che ci volesse Una laurea in fisica Quantistica Non lo so io Che cazzo Mi aspettavate Esattamente Che accadesse Va bene Oh cos'è sto suono Ho detto a mio nonno Di disegnare Una rana E questo è quello Che ha fatto Che cos'è sto suono Cos'è sto suono Scusami Mi scusi Ma dov'è la rana Di grazia Non ho capito Scusi Ma cerchiamo di capire Un attimo Di inquadrare Quello che sto Dov'è la rana Esattamente Ma la rana Dov'è Dove la sta Fattendo Ah questa è la rana Va bene Vabbè Questa Sembra 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 più Quello che rimane Di una rana Dopo che un camion Ci ha passato sopra Però Vabbè Oh Quella Più o meno A grandi linee È una rana Mia mamma Cos'è Mia mamma È assolutamente Mia mamma È assolutamente My mamma È assolutamente Not having This morning Ah Il cane Si caga d'osso Perché ha fatto Qualche stronzate La mamma L'ha scoperto In poche parole Ragazzi Ragazzi Ho avuto Ho avuto Anch'io Dei flashback Del Vietnam Ho avuto Anch'io Dei flashback Del Vietnam Ragazzi Quando Quando la mamma È entrata È entrata Di scatto Sentendo il suono Dei passi Boom 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 Ho avuto Anch'io Dei flashback Stavo per dire No ti prego Scusami Non sono stato Io a abbazzare Il vicino Ti giuro che Non ho seppellito Io il cadavere In giardino Perdona Ho avuto Questo flashback Mi sono sentito Per essere sgridato Anch'io Ho avuto Una sorta Di strana Riminiscenza Di trauma Passato Che è riemerso E riaffiorato In quel momento Incredibilmente Profondo Mai superato Vero giornalista Di uno È cominciato Alla camera Il dibattito Sul semestre Di presidenza Italiana Shari Grazie Per il 17 Malatino Dell'Unione Europea Al centro Del dibattimo Del dibattimo Un grado Invece continua Ad essere Insopportabile A Rome Dove c'è Una ridazione Sì perché ce n'è più di una Roma e Rome Di media Di un grado Si continua Una ridazione A Rome C'è una ridazione Media Di un grado Nel dubbio Se lo state chiedendo Di mercugno La colonnina Di mercugno La colonnina Un po' particolare Più ricchia Sì perché più ricca Non si può Ma più ricchia Piano E poi quando è grande La busta No E putto Stavo dicendo Infatti andiamo avanti Invece che No ragazzi Dai Invece che Blackauto I blackcat Ma come fai a confondere Blackout Con blackcat Scusami Cioè ma quanto Devi essere incogliorito Per confondere Blackout Con blackcat Il presentente Francese Il presentente Anni 90 Zio No zio Siamo nel 2003 Che anni 90 Nel 2003 2005 Non era così Sconvolgente Che anni 90 Grazie 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 Si dice così Stava pensando Alla gatta nera Sono gli analisti Del ministero Dell'interno In Italia Interagiscono Una criminalità Diffusa Una criminalità Una criminalità Un'altra criminalità Vai E' una criminalità Straniera Non ce la fa Non ce la fa Di criminalità E questo è veramente tutto Io vi ringrazio Vi ringrazio Io vi ringrazio Io vi ringrazio Per la serata Oh mio Dio Allora Pappere Direi che con Reddit Possiamo fermarci qui Che sono praticamente Le 11 e mezza Io vi ringrazio Per questa magnifica Serata Reddit Il quale Tornerà Lunedì 15 Margio E Ringrazio Ringrazio Tutti quante Le rapere Per la serata Reddit I Trump Grazie per i 4 Martino Grazie per i 7 Ora direi Che possiamo Vedere qualcos'altro Prima di passare Prima di passare Alla serata Che Ma guarda Era uscito Era uscito Quello il video Di Bertra Il video I momenti più Trash Della tv italiana Mi piace Mi piace come titolo Voglio vedere Tutti ragazzi Mi ha sfasato la vista A far questo Pad försö Oggi Siamo tornati Con gustosi video Ci andiamo a godere Il peggio Del trash Della tv italiana E questo perché Non lo so Mi fa ridere Ho trovo Questo profilo Che raccoglie Tutto sto schifo Sì No Voglio vederlo Anch'io Grazie E partiamo ovviamente Con i programmi tv a premi perché a mi piacciono un sacco i giochi come la settimana degli amichetti che abbiamo fatto cosmetici va godiamoci questa cosa partendo da uno dei miei preferiti l'intesa poco vincente è gialla schifosa com'è schifosa com'è schifosa come schifosa piscio schifoso come gialla che fa schifo pezzi di merdaara schifo. Guarda, guarda se non devo partire già incazzato io. A lei non piace! Ah capito? Ma non fa schifo, non piacerà a lei, ma la polenta è buona, com'è schifoso! Ah, lei non piace, vabbè, vabbè. Ma perché? Scusa, è buonissima la polenta! Specialmente con ragù, ovvio, perché se la metti così è ovvio che, cioè, però... Chi cura i bambini? Veterinari. Chi cura i bambini? Il veterinario. Ovviamente, non fa una piega, ovvio. Se avessi detto chi cura le donne, ancor... Dunque, dicevamo... Dicevamo, scusate. Chi cura i bambini? Veterinario. Ci devi raccontare qualcosa della tua infanzia, i tuoi genitori ti volevano bene, siamo sicuri? Chi era filosofo inventore della ovviamente? Chi era filosofo inventore della ovviamente? Pisa. Chi era filosofo inventore della ovviamente Pisa? Mi sembra lampante, no? Mi sembra ovvio. Chi è che era il filosofo inventore dell'ovviamente Pisa? Se non ci arrivate siete proprio scemi, io ve lo dico, eh, perché... Cioè, è talmente ovvia l'affermazione che è impossibile non capire chi era il filosofo inventore dell'ovviamente Pisa. Eh, ha detto due parole di fila, na na na. Ah, è proprio quello il problema. No, va bene. Comunque, bastava dire il telescopi, dai. Chi? 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 Le ragazze? Ha 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 ha. Fatela sub, cazzo. Scusate. Ha 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 ha. Sapete come diceva Galileo, no? Le donne telescopi, ma i telescopi non le donne. E questa è un'antica perla filosofica. Stasera stiamo delirando Però è giovedì sera anche per me Abbiate pazienza Anch'io sono un attimo In carenza di sanità mentale Cerchate di capire Il mutuo Quelli di la casa a momenti non mi vogliono Il mutuo, non vado in vacanza da un anno Io ragazzi sono un attimo in una fase Precaria di grave esaurimento Non ho capito niente Comunque bastava dire il telescopi Chi è? Corona? Chi è Corona? Fabrizio? Fotografo Chi è Corona? Cioè chi è Corona? Chi? Cosa? Non chi? Cosa? Oppure chi indossa? Ma non chi è Corona? Chi è Corona? Chi è Corona? Stavo a dire tipo Chi è Marito Regina? Easy Easy Facile Suoni in macchina Musica Certo Certo è ovvio Cos'è che suoni in macchina? La musica Io spesso quando guido in tangenziale Prendo la mia chitarra E faccio Beh ovvio chiaramente Chi è che non suona la musica in auto? O io ho tutta l'orchestra sinfonica di Vienna Nel Porto Ragali In dubbio Cosa suoni in macchina? Giustamente la musica Cosa suoni in macchina? La musica E anche se suonarla attivamente Mentre sei in macchina Penso sia un po' difficile Se guidi soprattutto Cioè immaginate lì Con la chitarrina Mentre guidi Dovevi avere un sacco di mani Musi per Togliere Peli Barba Pinzetta La pinzetta Tu ti togli la barba Con la pinzetta Un po' lungo eh Ci metti mezza giornata Ti serve una settimana libera Però Funziona uguale Ci metti solo una settimana Però Porca troia Il bro è hardcore Sì e poi che male Cazzo Cioè la bar Ti strappi la barba Con la pinzetta Soglia del dolore Over 9000 Perché Si toglie la barba Con la pinzetta Sì ti sanguinerebbe Tutta la faccia Cioè lui Pelo per pelo Sta lì la mattina Che poi fa malissimo Perché sono rigidi Eh sì Non sono i peli della barba Sono due Peletti in mezzo Alla sopracciglia Sono dei peli Ciotti così Si ammazza il bro Gusto Crema E cioccolato Gelato Cos'è? Che gusto ha Crema Scusami No però Qui stiamo Rassentando il delirio mentale Cioè Che gusto Crema E cioccolato Che gusto ha Crema e cioccolato Stracciatella Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Al massimo cos'è? Vaniglia e cioccolato Crema e cioccolato E la stracciatella Andrè 10 sub Per una freddura Triste anni 90 Per le papere Chi ha pensato A gusti Di un certo tipo? Non ho Non ho capito niente Dave Scusami Perdonami Non ho capito niente Di quello che mi hai scritto Scusami Devo dirgli una freddura Non ho capito Grazie per il circo Gelato Cos'è? Oggettivamente Ah sì Devo dirgli una freddura Una freddura Triste anni 90 Madonna santa Una freddura Triste anni 90 Cazzo Perché quando me le chiedono Non mi vengono Porca troia Una freddura Triste anni 90 Triste E che io Mi vengono in mente Solo quelle cattive E quel problema E la metà di quelle cattive E ci devo pensare Aspetta un attimo Adesso è una freddura La metà di quelle cattive Non mi vengono Veramente Non mi vengono Triste cioè Tristemente brutta No Non posso dire No Quella 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 Non è neanche divertente Quella Ti racconta una barzelletta Contrario Ok Inizia a ridere Quella non è neanche divertente Sarebbe una freddura Stupida Sarebbe qualcosa Di veramente orribile Qualcosa che uno ti guarda E dice Oh mio dio Perché ho parlato con te Fai pensare Una freddura Veramente di merda Porca troia Non mi vengono Perché non mi vengono Beh in mente Quando me le chiedi Quando me le chiedono Mi vengono in mente Assolutamente Ma non quando me le chiedono Non può Mi stanno venendo in mente Solo quelle cattive Mi stanno venendo in mente Solo quelle cattive Però io Io ho paura di dirle Perché non so Quanto siano Border Limit Capito Non so quanto siano Border Limit Capito Solo quelle bannabili No Questa qui non penso Sia bannabile No Questa non penso Sia bannabile Dai No Questa non è bannabile Sai cosa fa Una bambina afghana Sull'altalena Fa impazzire il cecchino Questa non è Questa non è Questa non è Questa non è bannabile Dai Questa non è bannabile Dai È molto Border Limit Ma non è bannabile Io la freddura Te l'ho fatta È molto vecchia Per forza è vecchia Mi ha chiesto lui Di farne una vecchia Ma l'ha chiesto lui Una freddura anni 90 Gliela dovevo far vecchia Per forza Leonardo Grazie per i tre Valentino Grazie per i sub Io la freddura Te l'ho fatta Quindi Ho sbagliato Se proprio Dobbiamo essere Fiscalini Chi è Compositore Di Traviata Dai Giacomo Cuccini I Cuccini Bestia Chi faceva Un Cerchio Perfetto Dai Leonardo da Vinci Ma come Leonardo da Vinci Come Leonardo da Vinci Come Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Oh mio dio Leonardo da Vinci Da Vinci Cristo Ma zio pera Ma che cazzo dizi Leonardo da Vinci Ah vongole La so vongole Totta piange Mentre le cucina Vongole Perfetto Cosa Sono Mitili Oppure Cosa sono vitili Ma Cosa sono mitili Ma cos'è sto casino Cioè ma di Non co Cri Grazie per i venti Valentino Grazie per i sal Ignoti Cosa sono vitili Idioti Questo per capirla Bisogna sapere Che cos'è Il milite ignoto Però Anche se non sapendo Cos'è il milite ignoto Io sto ancora aspettando Le dieci sub Hai detto che giftavi Dieci sub Se facevo una freddura Io sto ancora aspettando Non ho parole Mitili ignoti Vabbè Lascia perdere Il mitile ignoto No No La fate davvero Dave Grazie 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 Dave Grazie mille Per le sal Patatino Grazie mille di cuore Sei un tesoro Grazie mille davvero Per le sal Patatino Grazie mille Ti mando un bacione Un abbraccio Sei un amore Grazie mille Patatino Grazie mille davvero Oh bro Questo ha fatto male Ma tanto Allora Facciamo questa distinzione Il milite ignoto È il nome che si dà A tutti quei soldati Morti in una guerra Di cui non si sa esattamente Il nome Il cognome Che se non sbaglio È anche un libro Credo sia anche un libro O un'opera Il milite ignoto Identità Quindi è il milite ignoto I mitili Sono una famiglia di Animali Come cazzo si chiamano Tipo le vongole Tutti quegli animali I molluschi nel guscio Adesso non saprei ben Non sono esperto Le cozze Il nome dei molluschi bivalvi Esatto Muscoli peoci o cozze E lui ha detto Il mitile ignoto Sono tutte le vongole Che sono morte nelle guerre Sono le vongole morte Nei piatti di spaghetti Che nessuno si mangia Rimangono lì Ci sono i monumenti Per il mitile ignoto Grazie per il vostro servizio Cosa? È? Zero 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 Farina ti risponderà Che cos'è Zero 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 Sette Numero telefonico C'è Tu hai un numero telefonico Che fa Zero 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 Io ti ho risposto Farina Che cos'è Zero Zero C'è Che cazzo Di numero telefonico Inizia per Zero 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 Teatro Milanese Famoso Arcimboldi Come Arcimboldi Certo L'Arcimboldi È proprio il più famoso Di Milano In assoluto Letteralmente il peggior teatro Che ci sia a Milano No ma che dici No ma è proprio L'Arcimboldi Io penso teatro di Milano Subito in mente L'Arcimboldi Gli Arcimboldi Ma no ma tranquillo Scusate questa la capiremo io E le altre persone Che vivono a Milano Vabbè ho capito Io non so se l'Arcimboldi È di Milano o no Però non è il primo Che mi viene in mente L'Arcimboldi Ciao rag Erano Sovani Amilcare Amilcare Passo Erano sovrani Amilcare Amilcare Vabbè vabbè ragazzi Dai va bene Va bene Va bene anche Amilcare Dai su Come state a fare i fiscali Era il soprannome Era il soprannome Di Melchiorre Era Amilcare Dai ragazzi E volevamo sapere Chi è Amilcare Amilcare Ma perché Il famoso quarto re maggio Quello che portava la bamba Amilcare Pippo Chi è l'amico Di Topolino No Paperino No Pluto Ok Chi è l'amico di Paperino Che non è né Paperino Né Pluto Ci sta Uno Pluto Chi è l'amico di Paperino Non Pluto Pluto Lui lui ha fatto Lui insiste Lui non molla un cazzo Non cede per niente Pluto Blackout Mentale di botto Pluto È palesemente Pluto di nuovo Se metti sul tavolo a pranzo Cioè di tutto o di più Eh vabbè ci può stare in realtà Cioè Vabbè ci può stare Lui è andato direttamente alle cose importanti Non gli è fotte un cazzo nella tovaglia Lui vuole Vabbè ma cosa metti sul tavolo a pranzo Cioè posate bicchieri vino Acqua Cibo Pasta Bistecca Carne Verdure Pane E mangiare la sua merda di pasta Ed è felice Quale? La nonna Esattamente Lingua Non Parli Quale lingua Non parli In Germania Quale lingua Non parli in Germania? Il tedesco Ovviamente È la lingua Che non parli In Germania Perché in Germania Ovviamente Parlano Parlano Strogoto Parlano Serbo Serbo Croato Lo sanno tutti Ti dirai inglese Una parola Italiano Giustamente E quale lingua Non parli In Germania? Gli hanno messa Di merda Hanno sbagliato Hanno sbagliato Di brutto A mettere quel non Era facilissimo Quale lingua parli in Germania? Chi sono io? Chi sono io? Figlia No Sbagliato Si è confuso La legge della maniglia Prima Si è fatto la madre Poi si è fatto la figlia Però lui è il marito Oh no Oh no Cosa è dell'amico? Non sbagliare? No 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 Cosa? Sì ma però C'è regola Cosa è dell'amico Che non sbaglia? Cioè Mio Dio Cazzo però c'era Non ho capito Quella è la proposta Di Dave Non ho capito La regola dell'amico Su Cosa Dormi Sul Su cosa dormi Sul Letto Chi? C'è Su cosa dormi Sul Però ragazzi Come fa Bastava dire Cosa Oh cazzo È difficile Materas Cosa Venn Dieci sub Se ti può mandare Affanculo Qual è il problema? Procedi pure Non ho capito Qual è il problema? De Amy Flex Madonna io dovrei andare a fare questo gioco Sono fortissimo Cosa Fai Per Non Perdere Peso È ovvio È ovvio Cos'è che fai per non perdere peso? La dieta Lampante È ovvio Che cos'è che non si fa per perdere peso? La dieta Io per dimagrire vado tutti i giorni al McDonald's È proprio basilare Mi mangio 18 Big Mac al giorno Sbagliato Cosa fai per non perdere peso? Vado Mangio Amica Tra l'altro Mi che legge Pippone Pippone Sindaco Non puoi dire Pippone Peppino Pippone Don Camillo Don Camillo Scusami Peppino Poco però Io non l'avrei assoluta Cos'è cos'è? Peppino Minchia di poco però Io non l'avrei assolutamente capito Doi ca... Sì Ma vabbè Devi aver visto Don Camillo Se non hai visto Don Camillo Cazzo è arrivato Peppone Quale mago è del cartone? Cartone Poso Come cartone Ma come cartone? Merlino Eh sì Ma come cartone? Ma come cartone? Ma roga Cioè hanno fatto di tutto Derry Potter Tranne il cartone Cioè hanno fatto il film Hanno fatto la serie tv Il libro Il gioco Cioè hanno fatto tutto Tranne che il cartone Ma dai Cosa ti viene Quando hai paura? Cazzo duro Credo Sul braccia Eh questa è la messa giusta Dai Uno Brividi di freddo Cosa ti viene Quando hai freddo? I brividi di freddo Poi è una La parola denominare È formata da tre Brividi di freddo Quasi Quasi Era Tata Volante Lucia No? Dai facile Sabrina 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 Vita da strega Era anche Una tata volante Ogni tanto Per arrotondare Faceva anche La tata Sabrina Ma non era una tata Sabrina Cacciatore Barcellona Famosissimo Ronaldo No Palese Palese Questo non dico cazzo Perché non l'avrei saputo Neanch'io Sarebbe andata così Bastava dire basso Cosa Prendi Non Te Ne Camomilla Cosa prendi Non te Ne Camomilla Ma che cazzo Caffè Caffè Eh ma è ovvio Scusami Ma Scusami Ma è ovvio Cosa prendi Non te Ne Camomilla Ma anch'io avrei detto Caffè Era palesemente eroina La risposta Palesemente Usavo fosse bamba fresca Così Per Vedere Le Cellule Te Adesso dice Telescopio 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 Certo Certo è ovvio È quello che fanno in laboratorio Prendono un vetrino Con sopra un campione C'è il tizio con il telescopio così Aspetta eh Aspetta che Palesemente È quello che si usa per vedere i microorganismi Il telescopio Proprio È la prima cosa che ti viene in mente E col microscopio guardi le stelle Col microscopio guardi i pianeti Signore Devo dire che ha delle cellule veramente enormi E lontanissime Perché Camilleo osservava col microscopio Sono così lontane Sulla Macchina Rombante Cos'è sulla macchina rombante Mia suocera dopo che siamo andati a mangiare a messicano Che scoreggia come un otaria Claxon Cosa? Il claxon rombante Luiscone il claxon e fa Vrom vrom Vanno prima il claxon Si sente Vrom vrom Rombante Il famoso claxon che romba Vrom 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 Grazie per il joined Signori Dopo questa vado a rombare anch'io Alla prossima Carino Mi è piaciuto Dai mi è piaciuto Carino Un secondo nữa Perché vado un secondo al Valter Grazie mille Black Per il 6 grazie